La prossima stazione Spezia, la station Spezia. Mi piace, è senza conducente, ho chiesto quella del gusto. E' la corrente elettrica. E' la corrente elettrica. E' la corrente elettrica. E' la corrente. E' la corrente. E' la corrente. E' la corrente. Ok. E' la corrente. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Andiamo orano? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti